Salve a tutti, sono Giofranco Marini, benvenuti alla Bottega Didattica. In questo video vorrei presentarvi una funzione di YouTube Studio che consiste nell'oscurare i volti o altri oggetti che sono presenti nei video che pubblichiamo su YouTube che è la più diffusa e utilizzata piattaforma per la pubblicazione dei video. Cercherò di fare tutto questo in più di dieci minuti perché la vita è breve, l'arte è lunga. Bene, sono stato molto combattuto riguardo al fare o non fare questa sorta di guida perché oggi è in atto una sorta di censura digitale che io reputo indegna e vergognosa, un vero crimine contro l'umanità che è quella di cancellare i volti dei ragazzi e delle ragazze, distruggere il volto dei nostri bambini e delle nostre bambine e tutto questo sotto l'egida della privacy e del GPR che in nome di una morale bigotta reazionaria impongono questa sorta di iconoclastia digitale. D'altra parte, devo riconoscere che esiste da parte di tantissimi colleghi l'esigenza di utilizzare un simile strumento perché vogliono o che sia possibile mostrare ai genitori, alle famiglie, agli amici dei bambini e dei ragazzi, al mondo, quello che noi facciamo a scuola, quello che di bello e di buono noi facciamo a scuola. E quindi per questo motivo che alla fine mi sono deciso a realizzare questo video ma prima di scoprire come fare a oscurare con la sfocatura i volti dei video dovrete sorbirvi i miei improperi contro quello che ho chiamato Taliban Learning. La distruzione dell'identità è la forma più spregevole che è stata nei secoli praticata contro l'arte ma indirettamente anche contro le persone che l'arte raffigurava. È il disprezzo massimo che si può portare nei confronti di una persona perché è la cancellazione della sua identità, della sua personalità che nella nostra cultura occidentale e non solo si concentra nel volto. Bene, è quello che si chiama iconoclastia dal tempo dei bizantini ed è l'iconoclastia bizantina nell'VIII secolo, l'imperatore Leone fino a quella praticata dai luterani per cui le chiese dovevano essere spoglie quindi la distruzione delle immagini sacre questa che vedete è appunto il volto di una fresco deturpato nel Cinquecento fino alla rivoluzione francese che distrusse tante statue e per arrivare ai talebani ma si potrebbe poi andare più indietro ancora nel tempo sempre rimanendo più o meno nell'ambito geografico della nostra cultura per esempio gli egiziani, la damnazio memorie degli imperatori romani e così via non si tratta soltanto di una piccola questione si tratta di una grande questione in gioco c'è la censura e in gioco ci sono pratiche pericolose prima di tutto abbiamo il compito istituzionale il dovere di educare i nostri studenti a curare la propria immagine digitale a creare e gestire la propria identità digitale come possiamo farlo se cancelliamo il loro volto azione, come dicevo, sommamente spregevole inoltre dobbiamo rivendicare io l'ho chiamato scherzosamente Teacher and Student Pride l'orgoglio dei docenti e degli studenti a scuola non facciamo cose di cui dobbiamo vergognarci ogni tanto riusciamo a fare anche cose belle e vogliamo che le famiglie che i cittadini che pagano le tasse per mandare avanti la scuola seppure con finanziamenti abbastanza risibili ecco, possano vedere quello che facciamo a scuola e che la scuola non sia protagonista nei mass media soltanto per gli episodi negativi ma dobbiamo essere noi, scuola, a curare la nostra immagine e lo faremo certo censurando il volto dei nostri studenti inoltre tutto questo perbenismo bigotto è assolutamente fuori luogo il vero pericolo è un altro ed è quello della profilazione quello di un certo uso nel marketing e nella politica del machine learning e così via e ancora pensate al calvario burocratico che i colleghi devono subire quando vogliono ottenere i permessi i consensi dei genitori basta che ci sia un genitore e salta tutto e inoltre anche se è fattibile la cosa alla fine uno ci rinuncia perché ci vuole talmente tanto tempo è talmente cavillosa la questione non è affatto così semplice molti colleghi che per esempio si occupano di queste cose o perché sono laureati in diritto o perché hanno approfondito l'argomento mi dicono che non basta cancellare i volti perché comunque quella foto è ospitata presso i servitori di una qualche azienda che offre quel servizio e lì c'è la foto originale e parrebbe che il GDPR le norme che tutelano la privacy non consentano neanche questo quindi non basterebbe nemmeno cancellare i volti se un genitore lo sa vi può comunque creare problemi pensate a quali livelli noi docenti siamo arrivati che non sappiamo neanche cosa dobbiamo fare perché la cosa è talmente cavillosa e complessa che ci vuole un giurista tante scuole infatti si rivolgono a degli avvocati per questioni così semplici come filmare una recita un'uscita didattica perché si vede il volto di un alunno altri dicono anche se cancelli i volti basta una mano se dalla mano o dal modo in cui è vestito si riconosce il ragazzino o il bambino o la bambina non va bene lo stesso insomma è assolutamente ridicolo inoltre stiamo attenti perché la cancellazione del volto è quella che gli psicologi sociali chiamano una forma di anonimizzazione della persona di deumanizzazione che è tipica per esempio delle dittature che è tipica del lager è l'omologazione pensate alle organizzazioni giovani lì nei regimi totalitari tutti in divisa deve scomparire l'individualità è contro questa cancellazione dell'individualità quindi che bisogna combattere però adesso ho il mio improperio è stato anche troppo lungo quindi vi prego di scusarmi ma di meditare su questa forma vergognosa di iconoclastia digitale e andiamo avanti a vedere questa funzione di youtube che io ho conosciuto tramite Richard Byrne che vi invito a seguire un curatore eccellente per tutto ciò che attiene all'utilizzo del digitale integrato e subordinato si va di bene alla didattica basta che voi cerchiate Richard Byrne blog o Richard Byrne youtube e trovate subito sia il suo canale che il suo blog in questo video impareremo ad accedere a youtube studio e alla funzionalità di sfocatura dei volti che è forse la cosa più difficile perché il funzionamento che può essere automatico o personalizzato è piuttosto semplice quindi richiamoci presso il nostro canale youtube e vediamo come fare dovremo andare su youtube studio che è in versione beta nel 2019 sarà sostituito da un'altra versione e su youtube studio dobbiamo non accedere ai nostri video perché e qui non troveremo questa funzionalità guardate per esempio io entro in questo video e non ho la possibilità di sfocare i volti vedete avanzate posso cambiare la miniatura ma non posso fare quello devo andare su altre funzioni e altro quindi ripeto la procedura altre funzioni e altro e qui avrò l'elenco di tutti i miei video qui ce ne sono solo 4 clicchiamo visualizza tutti adesso io sceglierò un video ho dei video con i miei studenti sono non in elenco ma a volte sono anche pubblici ma in generale i miei studenti hanno il loro canale youtube e pubblicano i loro video sul loro canale youtube così io sono tranquillo bene vediamo questo video clicco qui sul titolo del video ed entro nell'editor vedete che ci sono varie schede a cui posso accedere vado su miglioramenti e ho finalmente la funzione sfocatura del volto adesso interrompo l'audio questa è una presentazione della video intervista che avevo fatto bene sfocatura dei volti automatica cosa succede? succede che l'editor automaticamente rileva i volti presenti nel video e li oscura se voglio però qualcosa di più preciso se voglio oscurare anche degli altri oggetti devo accedere alla funzionalità sfocatura personalizzata può essere una procedura molto lunga fermiamo di nuovo vedete dura 7 minuti più lungo il video più tempo ci vuole devo selezionare gli oggetti che voglio oscurare adesso io selezionerò questa parte del mio volto ho tutto il volto e poi supponiamo che seleziono ecco questi libri perché la mia raccolta di riviste porno non voglio che si veda bene adesso devo attendere l'elaborazione vedete che adesso ho oscurato questo oggetto lungo tutto il video ma io posso regolarlo per esempio e il mio volto se facciamo scorrere tolgo il volume il mio volto vedete qui si vede perché qui non è oscurato mentre qui non si vede quindi cosa devo fare seleziono il rettangolo corrispondente alla sfocatura del volto e lo allungo naturalmente posso anche bloccare vuol dire che ecco blocchiamo sia qui che qui come vedete adesso il mio volto rimane oscurato fino al secondo minuto circa e la raccolta di riviste fino alla anzi qui scompare ecco perché non me l'aveva lui aveva rilevato automaticamente che arrivava fino a lì e quindi io qui posso sbloccare controllare e adesso sta elaborando e poi riportarlo fino a dove dura quella altrimenti rimane oscurata questa regione della mappa che viene mostrata quindi come vedete è abbastanza semplice a questo punto do fine e vedete che le zone che ho voluto oscurare sono oscurate sia questa zona qui che quest'altra qui spunto fuori io quindi avrei dovuto guardare più attentamente ma insomma adesso era solo una dimostrazione è molto semplice da utilizzare la cosa più noiosa è trovarlo e poi il tempo che ci vuole perché se il video è molto lungo ci può volere anche molto tempo per portare a termine un lavoro del cittadino bene vi ringrazio sono riuscito a superare i 10 minuti addirittura 11 vi saluto e auguro una buona giornata a tutti che ci sono